Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv Ben ritrovati a Vicidi Agrilinea, noi siamo in ufficio ma abbiamo oggi realizzato le immagini straordinarie che fanno un po' vedere questo territorio, un territorio vicino a un parco Delta del Po straordinario, vedete dall'alto i colori, ecco questa non è una giornata bellissima però nonostante il tempo noi riusciamo sicuramente a farvi conoscere questa area Partiamo da Luigi, Luigi Forte che è una bella azienda, ben strutturata nel campo, ben strutturata in azienda Luigi, voi da sempre in qualche maniera l'erba medica l'avete nel cuore? Diciamo che abbiamo nel cuore, si era trasmesso a nostro padre, quindi le radici sono proprio sulla terra e la cultura di erba medica che coltiviamo proprio nel parco Delta del Po che è patrimonio della biosfera UNESCO e ce ne sono 724 nel mondo e proprio per due motivi principali la sostenibilità e la biodiversità Allora noi con queste macchine state sfalciando in questo momento, noi con le nostre telecamere siamo in campo ecco, alziamoci, vedete un po', vedetelo sullo sfondo, vediamo, assomiglia a una laguna questa Beh sì, il Delta del Po si chiama proprio così perché il Po che è il fiume principale d'Italia sfoce il mare con 7 rami quindi noi siamo proprio all'interno di questo bellissimo territorio, questo abitato naturale e noi come agricoltori e come imprenditori agricoli siamo orgogliosi di mantenere in equilibrio nel tempo attraverso l'erba medica Il mestiere dell'agricoltore, l'erba medica forse è sempre stato un prodotto trattato male forse Dall'opinione pubblica intendo Diciamo che l'erba medica è la cultura foraggera denominata la regina delle foraggere probabilmente parte proprio da noi, dalla nostra filiera che abbiamo comunicato poco E quindi oggi noi siamo proprio qui per farvi conoscere i valori Allora noi Leonardo ci vediamo spesso nei convegni, negli incontri e Leonardo è sempre molto attento a ciò che c'è di nuovo e di nuovo noi nel vostro campo, nella vostra azienda abbiamo visto una tecnologia molto avanzata Sì è vero, abbiamo fatto degli investimenti con l'aiuto anche della 4.0 che c'è stata negli anni passati molto importanti perché abbiamo rinnovato tutto il parco macchine usando le migliori tecnologie che ci sono attualmente in commercio Ecco questa tecnologia che bisogna saperlo usare perché è una tecnologia noi vediamo delle macchine che hanno a bordo un computer di bordo hanno una strumentazione diciamo dedicata Sono macchine anche abbastanza complesse bisogna fare una certa formazione ai dipendenti perché le possano utilizzare perché sono veramente abbastanza complicate dentro bisogna come dire dedicare del tempo alla formazione dei dipendenti sono macchine che vanno via in guida parallela quindi autonoma una volta che è impostato vanno via diritta sempre sbagliano di circa 2 cm poi abbiamo tutti i dati di sfalcio, andannatura, trinciatura eccetera nei nostri gestionali all'interno dell'azienda quindi sappiamo esattamente quanti quintali per ettaro abbiamo prodotto tempi, gasolio, consumi eccetera eccetera quindi abbiamo un controllo attento di tutti i costi di gestione dell'azienda Ecco oggi abbiamo scoperto che l'erba medica ha bisogno non solo di essere tagliata ma tagliata in un certo modo, essiccata in un certo modo, conservata in maniera particolare e quindi questa è una filiera dell'erba medica che finisce in azienda, in stabilimento ricordiamo che gli stabilimenti per chiudere se vogliamo la filiera è proprio vicino al campo Sì, noi siamo proprio dal chilometro zero, chiamato così vorrei dire che sottolineare l'aspetto è che noi non produciamo erba medica ma la coltiviamo con amore che poi è salute che raccogliamo dal campo quindi coltiviamo salute che poi diventa salute per l'animale salute per l'uomo e anche per l'ambiente Cioè finisce la filiera dell'erba medica ma non finisce la storia dell'erba medica La storia è una storia millenaria perché l'avevano scoperte gli antichi cinesi le proprietà dell'erba medica e quindi noi attraverso anche la IFE da 60 anni che produciamo l'erba medica disidratata cerchiamo di perseverare tutte le proprietà che ha in natura anche sul prodotto finito Un'azienda alla vostra che si estende sulle due province Ferrara e Rovigo Ferrara e Rovigo, sì Abbiamo le nostre zone che sono proprio le zone del Delta del Po che sono quelle del Veneto e dell'Emilia Romagna quindi della parte bassa del Ferrarese e della parte bassa del Rodigino proprio dove c'è il Delta del Po nel cuore del Delta del Po siamo Qual è la superficie? Gestiamo circa 3500 ettari attualmente 3500 non di proprietà? Non di proprietà ma sono terreni che in massima li gestiamo noi insieme ai nostri fornitori di erba medica Ecco, noi vediamo questi campi ben gestiti noi vediamo che sono ben livellati noi vediamo che c'è un drenaggio fatto bene voi non vedete i fossi molto spesso parlando proprio dell'alluvione in Romagna si parla come mai forse gli agricoltori hanno dimenticato i fossi ecco, qui i fossi non ci sono ma c'è un drenaggio particolare Sì, diciamo che alcuni proprietari hanno investito sulla bonifica dei terreni e quindi hanno installato i tubi di drenaggio che hanno una doppia funzione una per irrigare, fare subirrigazione d'estate quando abbiamo bisogno e nel periodo invernale quando piove molto hanno la possibilità di togliere l'acqua dalla campagna Ecco, allora sfalciamo, sfalciamo, tagliamo e facciamo una prima essiccazione? Sì, perché sarebbe improponibile poter sfalciare, portare a casa subito il prodotto come si faceva una volta e se no i consumi energetici si andrebbero alle stelle allora cosa facciamo? Facciamo lo sfalcio, dopo dipende dall'andamento climatico, dipende dal tempo portiamo a casa il prodotto dopo una giornata, due, tre, dipende un attimino dalle condizioni climatiche poi il prodotto viene messo in andana con questi ranghinatori che sono poi prodotti a Rimini dai nostri amici della Rocca che sono il top che c'è attualmente in commercio meglio di questi non ce ne sono, ecco, sono macchine che ti consentono di raccogliere dolcemente il prodotto viene messo su questi nastri e viene trasportato e vengono fatte le andane dopodiché passa la trincia come avete visto, raccoglie e porta a casa il prodotto come avete visto anche poi, anche lo scarico come viene fatto viene portato a casa il prodotto e tagliato una lunghezza ottimale per essere utilizzato nei cari miscelatori degli allevatori che hanno le vacche da latte quindi diciamo che è già pronto dal campo? Beh, quasi pronto perché facendo una pre-essicazione abbiamo bisogno di togliere la parte di umidità in eccesso e portarlo a un 10% di umidità e quindi poi a questo punto è un prodotto che può essere utilizzato su tutti gli animali perché sono erbivori e quindi a seconda delle linee facciamo il pelletto o il ballone Che relazione abbiamo con gli allevatori? Cioè voi avete un rapporto diretto con i mangi misti? Che relazione abbiamo? Beh, noi abbiamo un ottimo rapporto con i nostri clienti sia che siano mangi misti che allevatori e noi abbiamo un prodotto abbastanza alto di livello e quindi ha anche un prezzo di mercato abbastanza, come dire, sostenuto sotto certi punti di vista però poi il vantaggio che ha questo prodotto qua nell'alimentazione della vacca da latte va a abbassare il costo della relazione La rintracciabilità, la certificazione di un prodotto che poi deve essere venduto anche su mercati stradieri noi vediamo fra l'altro che c'è un movimento straordinario di camion che entrano, che escono, carichi, scarichi e vediamo che avete creato una bella economia dell'erba medica quindi voi vendete nel mondo, spedite attraverso via mare immagino? Sì, allora per il mercato di esportazione esportiamo appunto questo Made in Italy che secondo noi è quasi un prodotto chiamato petrolio verde dell'Elda del Po non a livello economico ma per l'importanza che gli diamo e che loro utilizzano negli animali perché non se lo producono e quindi viene caricato in container e poi spedito via nave non vorrei però dimenticare il nostro nocciolo duro che sono gli elevatori italiani perché ogni giorno noi andiamo a trovarli e con loro riusciamo a condividere ancora più a filiera corta il valore dell'erba medica, il valore con il metodo che avete visto dell'agricola forte Ecco, una filiera corta che va riconosciuta perché se noi non costruiamo un documento compagnatorio che riconosca il prodotto che vendiamo difficilmente possiamo distinguere un'erba medica di qualità da un'erba medica, diciamo, me lo consenta, un'erba medica che viene seminata per non lasciare abbandonato il terreno Sì, noi cerchiamo in tutti i modi con le certificazioni che poi anche abbiamo perché abbiamo le certificazioni, le prime certificazioni le abbiamo fatte negli anni 2000 le prime certificazioni che sono uscite in Italia, noi le abbiamo subito fatte è chiaro che non sono sufficienti, bisogna andare, come fa mio fratello, va in giro per le stalle va a spiegare insieme con gli elevatori e va a spiegare il valore dell'erba medica Dopo lì ci sono altri meccanismi che ci sono che bisogna un attimo, come dire, stemperare ecco, bisogna educare i nostri clienti bisogna cercare di educare i nostri clienti e cerchiamo di farlo al meglio delle nostre capacità come ben sa, cerchiamo di stare sempre molto, guardare sempre molto lontano però a volte diventa anche difficile, però vediamo che abbiamo anche soddisfazioni in merito Che relazione abbiamo tra un prodotto e l'altro, o meglio, tra un buon mais, una buona granella con l'erba medica, che relazione abbiamo con il veterinario dell'allevamento e quale relazione abbiamo con il nutrizionista noi umani abbiamo bisogno del nutrizionista per alimentarci in maniera corretta e sicuramente anche l'allevamento oggi ha bisogno di un'alimentazione corretta ecco, come convivete, condividete gli spazi negli allevamenti? Allora, noi per scelta del nostro aziendale vogliamo essere indipendenti quindi non forniamo alimentaristi o tecnici in quanto tutti gli allevatori hanno già dei loro alimentaristi di fiducia io dico sempre che come siamo diventati noi, diciamo, un po' esperti l'abbiamo fatto sulle nostre spalle quindi penso che anche un allevatore debba diventare esperto sulle sue spalle anche se ha un alimentarista al fianco quindi collaboriamo con qualsiasi mangimificio alimentarista e vogliamo essere indipendenti in questo Ecco, dei disciplinari di produzione viene riportata, diciamo, la percentuale eventuale di erba medica che può essere utilizzata? Allora, noi come azienda siamo anche fornitori qualificati visto che ha citato le filiere siamo fornitori qualificati nella filiera parmigiano-reggiano e loro per scelta, nel loro disciplinare, hanno necessità di consumare un prodotto per la maggior parte prodotto in loco quindi entra in una piccola parte nella razione dell'erba medica diciamo che fatto 25 kg capogiorno di sostanza secca ne può entrare circa 6-7 kg Anche perché il carromiscelatore fa proprio questo miscela un po' Interessante questo aspetto del carromiscelatore e l'erba medica, come avete visto, la nostra è già abbastanza corta quindi noi, diciamo, proponiamo all'allevatore di inserirla per ultimo nel carromiscelatore proprio perché anche il carromiscelatore ha un'usura un costo, ha un tempo di preparazione quindi in questo caso qui viene molto ridotto Comunque, il carromiscelatore risolve molti problemi Sì, io dico di solito i consumatori che magari non lo conoscono dico che è come un bimbi in cucina a casa quindi mescola un po' tutti i prodotti e fa come un'insalatona lo prepara nel miglior modo Bene, torniamo al campo i campi vanno ben livellati, ben preparati le macchine vanno utilizzate con operatori, diciamo, capaci ad utilizzarle Ecco, la professionalità, riuscire a trovare la manodopera idonea per la gestione della vostra azienda, dal campo allo stabilimento Quali difficoltà avete? Le difficoltà che abbiamo noi sono le difficoltà che oggi come oggigiorno hanno tutti è difficile trovare manodopera qualificata e quindi se quella manodopera che ci può essere in giro la devi qualificare tu La deve formare l'azienda La deve formare l'azienda Puoi pretendere che venga qui una persona che sia già formata a parte che può essere anche formata male quindi è meglio che te la formi tu bene e cerchi di farla diventare, come dire, al meglio per la tua realtà quindi bisogna lavorarci sopra Ricordiamolo, l'erba medica viene seminata, il seme viene prodotto in Italia Diciamo che appunto viene proprio prodotto dalla stessa azienda come la nostra e quindi siamo precursori della biodiversità e sono varietà selezionate da lense prodotte qui nel delta del Po Quindi diciamo adatte per questo territorio? Adatte per il clima italiano in particolar modo per il clima del nord Italia Cambiamenti climatici, quali problematiche vi hanno procurato anche per l'erba medica? Ogni anno è sempre una sfida diciamo Negli ultimi anni sono andate sempre più difficili per l'andamento climatico perché piove poco ovviamente soprattutto la fase delicata è dopo la semina e l'erba medica è anche una cultura che ha radici che vanno in profondità a 6-7 metri quelle di secondo o terzo anno mentre i medicai nuovi, i giovani hanno radici poco profonde quindi risentono molto della siccità Quest'anno è stata un'annata un po' diversa in quanto maggio e giugno ha piovuto molto e poi abbiamo sentito la siccità nei mesi successivi però diciamo che nella fase del ciclo di vita della medica che dura diciamo 5 anni e la raccolta viene da aprile a novembre è la cultura che diciamo ne risente un po' di meno Ecco noi consumatori molto spesso ci dimentichiamo dei primi anelli deboli della filiera ricordiamoci che se vogliamo quei buon prodotti che riusciamo a mangiare ogni giorno nelle nostre tavole è grazie ai prodotti agricoli e l'erba medica è strategico come abbiamo sentito viene inserita anche nei disciplinari del parmigiano esano il nostro formaggio leader ecco molto spesso noi abbiamo difficoltà nel comunicare il vostro valore anche perché molto spesso diciamo siamo abituati a noi parlare di agricoltura ma andiamo a vedere molto spesso un ortaggio ben coltivato ben prodotto andiamo a vedere i nostri frutteti straordinari con grandi difficoltà anche questi per i cambiamenti climatici l'erba medica devo essere sincero l'abbiamo sempre un po' trascurata allora intanto dobbiamo citare che è la filiera agrozootecnica quindi terra, le coltivazioni, gli animali che mangiano degli ingredienti naturali che poi li assimilano, li trasformano in latte, carne e uova quindi è importante conoscere cosa mangia l'animale perché poi ce lo troviamo sulle nostre tavole pertanto per nostra scelta aziendale oltre a lavorare ringrazio anche Agrilinea perché per noi è importante comunicare dal campo al piatto del consumatore attraverso i nostri clienti allevatori con altre figure professionali che possono essere nutrizionisti esperti di carne, chef per cui sembrerà strano però adesso arriviamo direttamente al consumatore Ecco, noi per convincere e poi concludiamo un agricoltore che non ha le idee chiare su cosa seminare molto spesso dobbiamo anche capirlo perché bisogna fare reddito in campagna con l'erba medica possiamo fare reddito? Certamente sì anzi direi che nella media di 4 anni l'erba medica è sicuramente la cultura che dà più reddito in assoluto di media quindi secondo me l'agricoltore deve pensare di mettere all'interno della sua azienda l'erba medica perché? perché dà una rotazione culturale quindi dà un beneficio alla sua azienda e insieme anzi addirittura potremmo fare anche dei ragionamenti di concimazione in maniera che dagli il terreno poi quando viene ridato al massimo della sua produttività quindi avere poi raccolti dopo in maniera che siano molto produttivi e sicuramente con il beneficio che noi diamo con il mercato che fortunatamente abbiamo che ci siamo anche creati tutti noi assieme insieme con Life e l'associazione nostra italiana e con tutti noi produttori che andiamo in giro per il mondo a vendere il valore dei nostri prodotti italiani quindi andiamo a vendere il prodotto italiano in giro per il mondo Ecco, noi in campagna questa mattina abbiamo fatto dei discorsi prima di registrare non credevo che questo prodotto fosse così ricercato dai paesi asiatici e dai paesi arabi ma venendo in azienda siamo andati a curiosare nei camion mentre questo prodotto veniva caricato e devo dire che è realmente così Pensate che le razioni delle vacche da latte nei paesi arabi ne utilizzano circa 13 chili capogiorno su un quantitativo di 25-27 chili capogiorno di sostanza secca e fino a pochi anni fa l'anno scorso irrigavano il deserto e coltivavano molta erba medica adesso sono costretti per condizioni diciamo climatiche perché avevano diciamo asportato troppa acqua dal sottosuolo di importarla quindi si è aperto un mercato ormai da un po' di anni anche per l'Italia per la Spagna e quindi anche per la nostra azienda che abbiamo cercato di diversificare anche in questo caso con una rete commerciale apposta per l'estero Noi questa mattina Leonardo ci siamo anche divertiti seguire questa nuova evoluzione questa meccanizzazione questo carico questo ordine nella disposizione della logistica del prodotto abbiamo visto che con questi mani tu che vanno avanti e indietro con gli operatori questi sono stati ben educati nell'utilizzo Esatto sono anche bravi di suo e quindi poi è bastato anche poco per potergli insegnare questi qua insomma abbiamo ragazzi che sono da tanti anni che sono qui con noi e quindi ormai il mestiere l'hanno imparato insomma dopo quelli nuovi che arrivano abbiamo il modo di insegnarli insomma ecco quindi cerchiamo di fare anche all'interno dell'azienda una filiera stiamo facendo un lavoro anche particolare adesso nuovo appunto per per cambiare anche noi per cambiare anche noi per essere diversi nel mercato anche come dire della mano d'opera e quindi vediamo siamo abbastanza fiduciosi e positivi insomma ecco noi da oggi apriremo una finestra staremo molto attenti all'erba medica andremo a vedere nelle filiere quanto e come viene utilizzata grazie Leonardo grazie Luigi di aver ospitato le telecamere di Agrilinea noi dall'erba medica dal Veneto ci trasferiamo andiamo in Puglia andiamo ad osservare l'uva da tavola ecco noi abbiamo recentemente diciamo realizzato uno speciale dedicato alle uve senza semi noi sapete di Puglia era conosciuta per l'uva Italia oggi il mercato vuole un'uva senza semi e quindi ci siamo dovuti adeguare nell'arco di poco tempo la ricerca italiana insieme ai club dei territori è riuscita ad ottenere delle ottime varietà che poi fra l'altro vi ho fatto assaggiare in campo come erano? squisita tu l'hai sentita molto buona varietà molto saporite dolci succose noi abbiamo fatto una degustazione in un supermercato qui della Romagna per vedere un po' come veniva recepito e come avveniva la scelta del prodotto con una ventina di varietà che alcune devono diventare marchio logo è stata una anche in quel caso è stata una bella festa di valore della nostra bella agricoltura italiana allora vi salutiamo e andiamo in Puglia per vedere queste nuove varietà pirene dell'uva da tavola senza semi tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv